Ciao a tutti, ma i testimoni di Geova sono davvero ostracisti? Intanto, cosa significa il termine ostracismo? Il termine ostracismo significa mettere al bando, emarginare da una comunità, da un gruppo, da un agglomerato di persone, insomma, mettere al bando. Ehm, quindi, io ovviamente non so questo, nel senso che, però, così, guardando su internet, su YouTube, ad esempio, ci sono diverse testimonianze di persone, ex testimoni di Geova, che sono stati disassociati, o loro si sono disassociati, perché appartenere ai testimoni di Geova vuol dire appartenere, diciamo, formalmente ad un'associazione, quindi l'associazione dei testimoni di Geova. Questa associazione, per appartenere a questa associazione, ci sono tutta una serie di regole da rispettare. I testimoni di Geova seguono in qualche modo la Bibbia, cioè la seguono alla lettera, non neanche tanto alla lettera, insomma, danno un'interpretazione. Comunque, al di là di questo, hanno tutta una serie di regole da rispettare, regole che sembrerebbero essere molto precise, e chi non rispetta queste regole e viene scoperto, credo, in qualche modo possa essere disassociato. Adesso non so poi le procedure interne alla loro organizzazione, come avviene alla dissociazione o meno. Disassociato vuol dire che viene escluso dall'associazione. Oppure ci possono essere casi in cui delle persone, perché cambiano un punto di vista, cambiano modo di pensare, può essere normale, no? Le persone, come dire, possono evolversi, tutto è in cambiamento, tutto è in trasformazione, quindi possono loro deliberatamente scegliere di non appartenere più a questa associazione, quindi disassociarsi dall'associazione. Allora, cosa capita in questi casi? Secondo le testimonianze, le persone vengono, appunto, emarginate dalla comunità. E uno dice, vabbè, può essere normale che le persone non vengano più prese in considerazione. Se tu vai a giocare, faccio un esempio, in un circolo, però questo non accade, però faccio un esempio, o appartiene a un circolo, o appartiene a una comunità, anche poi, non avere le stesse idee, ma comunque da idee diverse possono nascere delle cose interessanti. Ci può essere sempre un confronto. Però diciamo che uno dice, vabbè, no, la loro associazione prevede questo. Il problema è che vengono fatte delle pressioni, così dicono le testimonianze, anche sui parenti, perché supponiamo che in una famiglia magari ci siano padre, madre e figlio, testimoni di Geova. Se il figlio viene disassociato o si disassocia, le testimonianze raccontano che i genitori sono tenuti a emarginare il figlio, o i fratelli, insomma, i gradi di parentela. Ad esempio, c'è la testimonianza, adesso non ricordo il nome, comunque di una ragazza che stava su YouTube, che dice che lei si è disassociata, tra l'altro per un motivo particolare, perché racconta e fa vedere delle immagini, io adesso non ho questi libri, che su alcuni libri o edizioni della Torre di Guardia sono presenti delle immagini particolari, immagini subliminali, di tipo massonico o satanista. Io ho guardato, in effetti si possono vedere diverse cose. Comunque lei, insomma, dice che ha fatto una ricerca, avendo sentito su internet, avendo visto, diciamo, è andata a prendersi i libri che lei aveva, le pubblicazioni che aveva, e ha trovato queste immagini, per cui si è disassociata. Ma non per questo ha smesso di credere, ovviamente. E lei dice che sono state fatte pressioni sulla sorella, che non è neanche poi partecipato, non ha partecipato, lei non ha potuto andare a partecipare al matrimonio della sorella, ad esempio. Non è stata invitata al matrimonio della sorella. Ecco, le testimonianze dicono questo. Io, quello che volevo fare con questo video, non conosco ovviamente quale sia la realtà, però questo video era per raccogliere, diciamo, delle testimonianze, quindi chi volesse scrivere il suo commento qua sotto, dare il suo contributo, insomma, vediamo se si riesce a creare un dialogo, una, diciamo, come dire, sì, un dialogo, una discussione su questo tema, anche perché vedo che YouTube, su YouTube ci sono molti, molte testimonianze di questo genere. Io, come ho detto in un altro video, ho avuto un'esperienza con i testimonianze di giorno, nel senso che per un periodo avevo seguito alcune letture della Bibbia che loro interpretano in un modo che poi, in realtà, secondo me, è completamente diverso da quella che è veramente la realtà della Bibbia. Però, questo, come dire, tutto sommato può essere il mal minore. Però, con me, diciamo, in questi incontri sono state persone gentilissime, normalissime, tranquillissime, in cui non si lascia presagire poi una eventuale, diciamo così, durezza poi nei confronti di altre persone. Questo, però, non so, insomma, non conosco e quindi vediamo se ci saranno persone che vorranno dare il loro contributo, dare la loro testimonianza per alimentare una discussione su questo tema. Per questo video è tutto, mi raccomando, iscriviti al canale e lascia un commento, appunto, a questo video. E se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici. Ciao!